Geppetto rifà i piedi a Pinocchio e vende la propria casacca per comprargli l'abbecedario. Il burattino, appena che si fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a piangere, perché voleva un paio di piedi nuovi, ma Geppetto, per punirlo della monelleria fatta, lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata, poi gli disse «E perché dovrei rifarti i piedi? Forse per vederti scappare di nuovo da casa tua? Vi prometto, disse il burattino singhiozzando, che da oggi in poi sarò buono. Tutti i ragazzi, replicò Geppetto, quando vogliono ottenere qualcosa, dicono così. Vi prometto che andrò a scuola, studierò e mi farò onore. Tutti i ragazzi, quando vogliono ottenere qualcosa, ripetono la medesima storia. Ma io non sono come gli altri ragazzi, io sono più buono di tutti e dico sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia». Geppetto, che sebbene facesse il viso di tiranno, aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione di vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole, non rispose altre parole, ma, presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato, si mise a lavorare di grandissimo impegno e in meno di un'ora i piedi erano belle fatti, due piedini svelti, asciutti e nervosi, come se fossero modillati da un artista di genio. Allora Geppetto disse al burattino «chiudi gli occhi e dormi». E Pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire. E nel tempo che si fingeva addormentato, Geppetto, con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo, gli appiccicò i due piedi al loro posto, e glieli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura. Allora il burattino si accorse di avere i piedi, salto giù dalla tavola dove stava disteso, e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole, come se fosse ammattito dalla gran contentezza. «Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me», disse Pinocchio al suo babbo, «voglio subito andare a scuola». «Bravo, ragazzo!» «Ma per andare a scuola ho bisogno d'un po' di vestito». Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di midolla di pane. Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse pavoneggiandosi «Paio proprio un signore!» «Davvero!» replicò Geppetto, «perché, tienilo a mente, non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito. A proposito, soggiunse il burattino, «Per andare a scuola mi manca sempre qualcosa, anzi, mi manca il più e il meglio!» «Cioè, mi manca l'abbecedario!» «Hai ragione, ma come si fa per averlo?» «È facilissimo, si va da un libraio e si compra!» «E i quattrini?» «Io non ce l'ho!» «Nemmeno io!» soggiunse il buon vecchio facendosi tristo. E Pinocchio, sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si mise tristo anche lui, perché la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti, anche i ragazzi. «Pazienza!» gridò Geppetto tutta un tratto rizzandosi in piedi, e infilatasi la vecchia casacca di Fustagno, tutta toppe e rammendi, uscì correndo di casa. Dopopoco tornò, e quando tornò, aveva in mano l'abbecedario per il figliuolo, ma la casacca non l'aveva più. Il povero uomo era in maniche di camicia, e fuori nevicava. «E la casacca, babbo? L'ho venduta!» «Perché l'avete venduta?» «Perché mi faceva caldo!» Pinocchio capì questa risposta al volo, e, non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore, saltò al collo di Geppetto, e cominciò a baciarlo per tutto il viso. «Perché mi faceva caldo!»